E' morto ieri sera all'ospedale San Carlo, l'uomo di 81 anni colto da malore subito dopo aver scoperto nella notte tra sabato e domenica un tentativo di intrusione in casa sua in via Macmahon 107 a Milano ad opera di due ladri che sono poi fuggiti. Gianfranco Sgarbi era in coma con complicazioni cerebrali, al momento del colpo stava dormendo con sua moglie. Un taglio del 40% in vista nella concessione dei pass auto per le corsie preferenziali. L'assessore Pierfrancesco Marana ha preparato l'ordinanza che diventerà operativa da ottobre. Dagli attuali 4.000 i lascia passare scenderanno a 2.500. La stretta coinvolgerà i privati che godevano del privilegio ma anche aziende, banche e associazioni. I politici eletti a Milano invece continueranno a ottenere l'ambito contrassegno. Aumenta nel capoluogo Lombardo il numero di strade dove l'AMSA effettuerà il lavaggio senza la necessità di spostare le autovetture. Da mercoledì altre 200 vie si aggiungeranno all'elenco attuale. Fine dei sdisagi per 40.000 famiglie. Inoltre dal 15 maggio sarà ufficialmente fuori corso il sacco nero per la raccolta indifferenziata dei rifiuti e bisognerà utilizzare quello trasparente. Previste multe ai trasgressori. Nasce ufficialmente il pool antigraffiti per porre rimedio all'assalto dei writer ai treni della metropolitana. Accordo tra ATM e vigili urbani. Il patto consentirà uno scambio di informazioni più rapide. Immagini, filmati, foto e schede tecniche per sorprendere i vandali. Ogni anno la TM subisce danni per 6 milioni di euro. È già polemica sui cortei di domani primo maggio. La questura non ha autorizzato il percorso del May Day Parade che partirà alle 15 da piazza 24 maggio e che doveva giungere al castello Sforzesco. La polizia invece ha imposto la conclusione nella zona della triennale. Antagonisti e precari hanno contestato su internet la decisione delle autorità. Il corteo dei sindacati invece partirà alle 9.30 da Porta Venezia e dopo un percorso circolare si concluderà sempre nella stessa zona. La crisi spinge sempre più famiglie milanesi a chiedere il minicredito per pagare l'affitto, le bollette oppure le spese mediche. Centinaia le richieste giunte al Fondo Welfare di Comune e Banche. Il 69% delle domande riguarda l'accesso al credito sociale, il 31% a quello di impresa. Sesto San Giovanni è pronta ad accogliere la città della salute, lo ha detto il sindaco Giorgio Oldrini. In dieci mesi procederemo con la bonifica dei terreni e tra un anno i cantieri potrebbero già essere aperti, ha sottolineato il primo cittadino. Ricordiamo che la regione Lombardia dovrà scegliere dove realizzare il nuovo polo sanitario tra l'area Falca di Sesto e la piazza d'armi dell'ormai dismessa caserma Perrucchetti a Milano. La Juve fa un altro passo verso il tricolore. Il poker, rifilato al Novare, lascia i bianconeri a più tre sul Milan, nonostante il successo dei rossoneri a Siena. Ora mancano tre partite, le speranze del Milan sono appese a un filo. Si torna in campo mercoledì con Milan-Atalanta e Juve-Lecce.